I caos stanno funzionando esattamente come noi ci aspettavamo, avrebbero potuto funzionare, cioè garantendo una risposta nell'arco dell'intera giornata per attività sostanzialmente medico-generaliste, quindi attività di medicina generale. Sul tema sgravio dell'accesso al pronto soccorso ci sembra che invece ancora ci sia molto da fare, perché ovviamente fanno due lavori diversi, due background formativi diversi, disponibilità ovviamente di diagnostica è diversa tra il pronto soccorso e ovviamente i caos, e quindi diciamo fanno sicuramente un aspetto di medicina generale, ecco quello sì, un ambulatorio di medicina generale che tra l'altro, chi si ricorda un po' di anni fa, erano diciamo una cosa che noi negli anni abbiamo chiesto, il potenziamento degli ambulatori della continuità assistenziale, l'apertura eccetera eccetera. Quindi sostanzialmente fanno esattamente quello che ci si aspettava da parte nostra ovviamente, che ottenessero, cioè un'attività medico-generalista sullo sgravio del pronto soccorso, che era uno dei temi a noi molto caro ovviamente, su quello invece i colleghi ci dicono che ancora non c'è molto diciamo di uno sgravio significativo, anche perché ovviamente aver chiuso dei pronto soccorso, aver chiuso dei punti di primo intervento e aver concentrato quindi tutta quella quota di pazienti non autosufficienti, non autonomi, che sono dovuti andare necessariamente a quel punto, a trasferimento diciamo su altri presidi ospedalieri e presidi di pronto soccorso ovviamente, ha comportato per i pronto soccorso residui uno stress importante ovviamente, perché questi hanno dovuto sobbarcarsi, iso risorse sostanzialmente e anche tutto il lavoro dei punti che sono stati chiusi. Ecco però il calo è stato registrato, questo calo di accesso ai punti di emergenza, questo è un titolo del Carino di qualche mese fa, il 6% di accessi nei pronto soccorso è un dato che è stato registrato in tutta l'Emilia Romagna, lei diceva che questo calo è dato dal fatto che la gente non si è rivolta al pronto soccorso perché i punti di accesso sono diminuiti e allora però è andato al cao, quindi diciamo che qualcosa è cambiato. Allora, noi ovviamente stiamo aspettando di capire questo calcolo esattamente come è stato fatto, ma le due considerazioni che noi possiamo fare sono ovviamente queste. Se io tolgo dal numero degli accessi al PS, ovviamente tutti quelli che sono i pronto soccorso chiusi nella provincia di Bologna, per esempio Budrio e Vergato, è evidente che un numero assoluto di calo ce l'ho. Quello che a noi interessa non è tanto e non è solo il numero di accessi, che comunque se chiudo dei pronto soccorso è evidente che quei dati non vengono ad alimentare quel flusso. Quello che ci interessa è la pressione sui singoli pronto soccorso residui. La pressione significa quella quantità di pazienti complessi che quei pronto soccorso hanno dovuto poi ricevere e di cui hanno dovuto farsi carico. Questo è il grosso problema, perché è chiaro che se io ho tolto pazienti molto semplici, molto lineari, che avevano bisogno di pochissime cose e che sì impegnavano delle risorse, ma impegnavano un livello di complessità limitato e per contro poi tutti quelli che invece erano pazienti allettati, barellati, pluripatologici, non autonomi, quelli li ho dovuti trasferire nei pronto soccorso residui. È chiaro che il bilancio non è detto che con un 6% sia positivo, anzi ovviamente per noi la percezione che ci viene riferita dai medici non è assolutamente disgravio. E poi c'è il problema del personale che manca. Voi dite si tratta di precari, rischiamo che questi centri poi rischino di soffrire della stessa malattia di cui soffre il resto del sistema sanitario, è così? Esatto, allora il tema è stato questo sostanzialmente. Recentemente c'è stata la risultanza dell'assegnazione dei posti a tempo indeterminato che sono stati pubblicati dalla Regione. Pubblicati circa 158, mi sembra di ricordare, posti. Quindi attenzione anche a questo, che noi non eravamo nemmeno del tutto in linea con questa azione, perché? Perché i CAO oggi sono un'applicazione di un verbale d'intesa, quindi nemmeno di un accordo o di un contratto di un verbale d'intesa, quindi di intenti, diciamo. E quindi dire che un verbale d'intesa che ha scadenza 31-12-2024, generi dei posti a tempo indeterminato per quella funzione, ci sembrava un attimino da discutere, perché ovviamente i posti fino ad ora sono pubblicati secondo le previsioni del contratto nazionale, che non prevede i CAO, perché i CAO li abbiamo solo in Emilia-Romagna e non ovviamente nel resto della penisola. Quello che comunque è successo per noi è stata una cartina al tornasole, cioè di tutti questi posti pubblicati in Regione, alla fine se ne sono coperti solo sei, mi sembra di ricordare. Qualcosa succede? Che questo mette in luce l'ulteriore problema che già avevamo sugli altri settori, cioè che i posti di formazione specifica in medicina generale, che sono in teoria quei posti che consentono di avere il titolo per prendere e reclamare un posto di ruolo, e quindi un posto a tempo indeterminato, sono troppo pochi. Consideriamo che la Regione Emilia-Romagna nel 2022 aveva pubblicato 209 posti con borsa di studio e 100 posti senza borsa di studio, derivanti ovviamente da quello che era il decreto Calabria, fatto in tempi diciamo pre-Covid e poi prorogato. Quello che succede è che nel 2023, quindi l'anno dopo, la Regione Emilia-Romagna ha aumentato i posti con la borsa di studio, ma ovviamente non avendo richiesto la proroga, le Regioni, non solo Emilia-Romagna, le Regioni non hanno chiesto la proroga degli ulteriori posti aggiuntivi senza borsa di studio, ha ottenuto una somma totale di posti di formazione con una differenza negativa di 121 posti. Quindi è chiaro che se noi andiamo a aumentare il fabbisogno di personale aprendo anche i CAO, quindi aumentiamo la richiesta di posti tecnicamente di ruolo, ma andiamo contemporaneamente a contrarre il numero di posti di formazione complessiva, pur aumentando le borse di studio per carità, ma con un totale calo negativo, è ovvio che io non mi aspetto altro che questi siano posti, come è successo per la continuità assistenziale, come è successo per noi, io lavoro nell'emergenza, quindi anche noi dell'emergenza abbiamo avuto lo stesso problema, ci troviamo con un saldo di precari che hanno contratti di sei mesi, di un anno, in continuo turnover. Turnover che secondo i meccanismi di graduatoria comporta che tutti gli anni la graduatoria cambi e quindi che tutti questi siano di fatto precari a tempo indeterminato. Ovviamente sono tutti medici sui quali si fa un investimento formativo, sui quali si aspira ad avere una strutturazione, ma evidentemente questo poi cozza con la realtà, perché se io poi sono costretto a un turnover continuo, è evidente che anche l'investimento formativo rischia di essere perso sostanzialmente. E questo è la spia dell'ulteriore problema che noi abbiamo segnalato dall'inizio, ed è uno dei motivi per i quali non abbiamo sottoscritto l'intesa sui cao, è che questi cao sono totalmente decontestualizzati dai nuclei di cure primarie dei medici di famiglia, quindi sono strutture che diciamo nascono e che sono parte della medicina generale, ma che di fatto con l'attuale struttura dei medici di famiglia non hanno delle relazioni strutturate, non le hanno neanche con i colleghi che hanno lo stesso inquadramento come contratto di lavoro, cioè i medici della continuità assistenziale, quindi non sono regolati i rapporti, non sono regolate le graduatorie, non sono regolati i rapporti all'interno del nucleo di cure primarie, se non con due righine che sono scritte nel verbale d'intesa, ma che di fatto oggi non trovano un'attuazione. E quindi questo comporta ovviamente una polverizzazione del panorama professionale e ovviamente servizi che creano confusione, vado di qua, vado di là. Di fatto quello che sta emergendo anche negli articoli di giornale degli ultimi giorni, quindi non da noi, è che pare che appunto abbiano risposto molto di più alle necessità della medicina di famiglia piuttosto che alle necessità del pronto soccorso. E appunto il pronto soccorso è il tema, il dubbio, vado di qua, vado di là, è proprio il dubbio che le stavo per sottoporre, perché il cittadino che deve decidere a chi rivolgersi si trova in questo bivio, andare al pronto soccorso o andare al CAO. Come comportarsi? Qual è il consiglio che si sente di dare a chi ci sta ascoltando e magari, Dio non voglia, un giorno deve decidere e avere questo bivio, prendere questa decisione? Ok, beh, sicuramente chi ha dei sintomi seri, problemi respiratori, dolore al petto, sintomatologie che in qualche modo possono essere riconducibili a patologie serie, deve chiamare il 118, servizi di emergenza e quindi eventualmente poi discutere con l'operatore, perché per evitare che un paziente critico si recchi al CAO, appunto, che non è una struttura sostitutiva del pronto soccorso, non è una struttura di emergenza, ma fa le piccole urgenze a bassa criticità, per cui bisogna che il paziente che ha delle sintomatologie serie o il dubbio di avere dei sintomi seri, comunque faccia il 118 cautelativamente. Poi ogni qualvolta è possibile, è chiaro che il contatto col proprio medico curante per capire come si può e come non si può è fondamentale in questa fase, ma noi aspettiamo il 116-117, perché un altro dei motivi per i quali noi eravamo in disaccordo con questa impostazione che andava a creare un po' di confusione nei percorsi era che appunto il cittadino deve potersi orientare e quindi serve un numero di telefono con una risposta clinica che, dopo aver discusso con l'operatore, decida guardi, questo è un problema che può essere gestito nella struttura territoriale oppure no, questo è un problema per cui le consiglio di rivolgersi al pronto soccorso, al 118 o all'altra struttura in funzione di quella che l'ha richiesta. Questo modello, tra l'altro, non è nemmeno lontano dalla realtà perché nel servizio di guardia medica, che è nato a Bologna da almeno 15 anni, questo è il modello di risposta ambulatoriale.